Ciao a tutti! Oggi un video inedito, perché non è il salito video di cucina. Oggi volevo portarvi con me all'Eurochocolate. Sì, sono stata all'Eurochocolate e mi sono chiesta come mai in 25 anni non c'ero mai stata. Cioè, è una cosa assurda! Vabbè, comunque, penso che questo video lo dovrò dividere in due parti, perché erano tipo due ore di registrazione, era un po' spezzettato, però verrà comunque lunghissimo. Quindi probabilmente questa sarà la prima parte del vlog di Perugia. Bene, cominciamo. Il nostro viaggio iniziò così. Sì, sembrava andare tutto per il verso giusto, però diciamo che stiamo a stare attratti da cartelli molto, molto invitanti. Vabbè, comunque, tralasciando i cartelli, alla fine siamo arrivati a destinazione. Ovviamente, ora che siamo arrivati, siamo andati in albergo, abbiamo posato le valigie, siamo riusciti, abbiamo trovato parcheggio e siamo andati all'Eurochocolate, il tempo era praticamente finito. Quindi, per il primo giorno abbiamo assistito solamente a un magnifico grande evento. Vesta rete a chiave che è. Guardate, va! Sì, sì, avete capito bene, era proprio una degustazione di acqua e c'è, regà, questi sono eventi che non si possono perdere, c'è le degustazioni di acqua. Vediamo come l'acqua arriva sulla nostra bocca a seconda del calice che andremo a usare. Ok, va bene, non è che quello era un pazzo allucinato che ci ha fatto degustare l'acqua. Voleva semplicemente farci capire che in base alla dimensione del calice il liquido va a versarsi in un punto specifico della lingua e di conseguenza andare a concentrare un sapore diverso. Ok, però l'ha fatto con l'acqua, cioè, te pia un po' di depressione, dai! La forma del calice va a influire su come voi posizionate la lingua e la bocca. Bene, quindi dopo l'emozionantissimo pomeriggio, cosa possono mai fare dei giovani 25 anni in una città che non conoscono? Girovagano con la macchina in attesa di un'ispirazione, di qualcosa da fare. Dici, vabbè, qualche cosa ci sarà. Ah, la rassegnazione era vicina. Poi a un certo punto, l'illuminazione. Il cinema spesso ci salva da ogni problema. E siamo andati a vedere il film con Robert Downey Jr., che tra l'altro è uscito proprio quel giorno. E devo dirvi che ci siamo pure divertiti. È stato bello, lui bravissimo, la trama secondo me è un po' scontata, però vabbè, mi sto di lunga in chiacchiere, a voi non me ne frega niente della mia opinione sul film, quindi vi continuo a raccontare il secondo giorno all'Eurochocolate. Come poteva iniziare il secondo giorno in maniera normale? Non poteva iniziare in maniera normale, perché ovviamente noi siamo arrivati, abbiamo parcheggiato, e ci siamo persi, non sappiamo più da andare, cioè, vabbè. Dove siamo? Allora, di qua. Qui c'è il mercatino, mi sa, del sabato. Mi metti un navigatore? Ci sta. E che dice? Eh, non si riesce a capire dove... Bene, vediamo di qua. Che c'è sta di qua? In alto. Andiamo di qua? Andiamo. Al mercatino. Andiamo a andare all'Eurochocolate. Fai io riprendi un attimo. Vabbè, dopo estenuanti ricerche, alla fine, siamo arrivati a destinazione. Sì! Appena arrivati, la prima cosa che ci ha colpito è che abbiamo incontrato una serie di personaggi strani. Ma proprio strani, eh! Non è che dici, sai, incontri tutti i giorni per strada. No, no, guardate! Ciao a tutti! Grazie a tutti. Tra tanti personaggi e tante persone il protagonista di questo evento non poteva essere che il cioccolato. Ma tanto, tanto, tanto cioccolato in tutti i modi, in tutte le versioni possibili e immaginabili. Cioè praticamente è una tortura per chi sta a dieta. Cioè come se fa una marmellada con frutta e zucca errada e un pò di liquore a boccia. Cioè come se fa una choccolata con una mescolata di zucca errada e cacau. Cacau, 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 da gustanza in generale. Cacau, cacau, però cacau meraviglioso. Cacau, meravigliau, che meravigliau sto cacau, meravigliau. Cacau, non trequistau, deligasato e giudicau e defensau. Lo so, o non lo so, ci vai pazzao sto cacau, meravigliau. Cacau, 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 che meravigliau sto cacau, meravigliau. Cacau, meravigliau.